Dopo aver annunciato ad inizio anno l'arrivo di Paolo Andreucci, adesso il 58enne pilota Garfagnino esordirà effettivamente con i colori della scuderia Raw Racing. Il pluricampione italiano, 14 titoli in bacheca, nuovamente vincitore quest'anno del tricolore terra, sarà al Via, in coppia con Rudy Briani, al Prealpi Master Show 24esima edizione, che si disputerà sabato 9 e domenica 10 dicembre in Veneto. Il driver di Castelnuovo Garfagnana sarà in astre di partenza naturalmente con il numero 1 nella manifestazione che si disputerà in provincia di Treviso, a bordo di una Citroen C3 gommata MRF Tires. Sei le prove speciali in totale di oltre 43 km di strada cronometrata, in attesa della conclusione della loro stagione agonistica che avrà l'epilogo a Rally del Ciocchetto. Nella prossima settimana, sabato 16 e domenica 17 dicembre, Andreucci e Briani proveranno ad aggiungere una nuova vittoria al loro ricchissimo Palmarès. Ricordiamo che sono addirittura 92 i successi del popolare Ucci nelle prove del campionato italiano Rally, che sia assoluto o terra. Obiettivo le 100 vittorie? Lo scopriremo solo vivendo.